diciamo subito come stanno le cose questa vicenda la racconto io perché se non fosse stato per me quei due non si sarebbero mai incontrati e poi perché con tutto questo via vai di gente per stabilire chi sia la parte lesa ci metteremmo un altro secolo e mezzo terzo incomodo è un podcast dedicato ai triangoli amorosi quelli più belli e crudeli a raccontarli in ogni puntata una sola voce la parte lesa ingeborg si è stato il mio grande amore io il suo no neanche paul inge amava solo se stessa al massimo la letteratura terzo incomodo di paola moretti una produzione emons record